Bella a tutti ragazzi da Daniel Preview, siamo qui in un nuovissimo video in cui giocheremo a Squat Buster Mi raccomando lasciate mi piace Dai, andiamo Raccogli le gemme per vincere Prendiamoci subito un costruttore Perché possiamo prendere gemme anche distruggendo alberi Infatti adesso siamo primi Tanto che abbiamo uno scheletrino che ci dà fastidio Eccolo qua, prendiamo un Goblin Abbiamo bisogno di compagnia Come ad esempio un Barbaro Così siamo più veloci E non basta ragazzi, sono troppo veloci questi Goblin Cosa vedo? Grax al primo posto Gioca anche Grax Sono solo un cespuglio Pazzesco ragazzi Siamo in una partita con Grax E speriamo Speriamo che non sia proprio lui A distruggerci Perché qui possiamo anche andare contro altri giocatori Tanto questo ce lo prendiamo subito E vai, scaliamo E siamo di nuovo primi Vai così Attenti a questo ponte che si distrugge Siamo secondi Intanto c'è Leon che ci sta dando fastidio Ed ecco qua È il primero Il primo Distruggiamo questo albero Mentre andiamo anche contro Il Goblin Cerbottaniere L'eliminatore Che lancia dinamite È fortissimo Dynamo appunto Prendiamone un altro Ragazzi siamo primi Però è una partita veramente È una partita veramente combattuta Qui ce ne sono tanti Con poca vita E quindi dobbiamo sfruttare A nostro favore Questo vantaggio E andiamo Siamo di nuovo primi Ma cos'è gui Siamo molto attenti Perché Grax è uno strategico Anche se adesso Non so se sta ancora giocando Se qualcuno è riuscito a sconfiggerlo Ecco qua Andiamo così Non dobbiamo concentrarci Su quante gemme abbiamo Ma su quante Le possiamo prendere Intanto qui possiamo battere Qualcuno però Sono andati via Velocemente E dietro di noi Invece Sta diventando Tutto Cactus Quindi Non possiamo rimanere Per troppo tempo Così come sta facendo Un certo Powstar Eccolo 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 Dai 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 Prendetelo Intanto ci prendiamo Anche una nuova carta Dai 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 Perfetto E ragazzi Il vantaggio è minimo Siamo più o meno là Nooo Sono troppo potenti E ci stanno soprattutto Rubando Tempo prezioso Tanto qui Potremmo andare Nell'albero Però Piuttosto ci concentriamo Ad altro Dai 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 Battiamoli Che tanto hanno Poca vita Forse ci danno Anche loro gemme E infatti Ecco qua Nelle nostre gemme Prendiamo Un altro giocatore Prendiamo Eccolo qua Un barbaro scelto Distruggiamo Questi Goblinuncoli Con poca vita Prendetelo 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 Intanto lì dietro di noi Ci sono tantissime gemme Che dobbiamo Prendere subito Siamo ancora primi Ma forse non per molto Ovviamente già qualcuno Ci avrà rubato tutto Distruggiamo questo albero Prendiamoci le gemme preziose Mancano dieci secondi Ragazzi E più o meno Stiamo là Più o meno Stiamo là Cioè grazie al terzo posto Leon secondo E noi siamo primi Finisce così Sì abbiamo vinto ragazzi Primo posto Primo posto E che strage Chi c'è la Quanti Sono stati eliminati Vediamo un po' il baule Raro Grandissimo Vediamo Buonissimo Dynamike Bella partita Iscrivetevi Condividete E Bella Grazie a tutti Ciao Ciao Grazie a tutti